Tra noi Raul Ropoli, Venturi Communication and Public Relations Director di Ferrero. Se tra noi lo inviterei a raggiungerci. Sono già qua. Eccoci, mi è sfuggito, buongiorno, benvenuto. Dunque, in Ferrero la sostenibilità si declina in attenzione al territorio, insomma se ne è parlato tantissime volte, le materie prime, il packaging, insomma. Lascio a lei l'onere e l'onore di raccontare tutte le vostre iniziative che sono numerosissime. Prego. Allora, intanto sono felice di essere in quest'aula, anch'io, 39 anni fa. Mi sono laureato in questa sala delle colonne, quindi sono onorato di parlare qui anche oggi. Ferrero e la sostenibilità è una storia lunga, è una storia di quando non se ne parlava. Non erano presenti le parole responsabilità sociale, sostenibilità, non se ne parlavano gli anni 50. E di fatto invece gli imprenditori Ferrero, Michele Ferrero, già, voglio dire, operavano in questo senso. Evidentemente si è cominciato nell'ambito della sostenibilità soprattutto di carattere sociale, ma che comunque sia ha avuto poi degli impatti anche dal punto di vista ambientale. Ricordo una delle prime iniziative che appunto sono in questo novero è quando si è organizzato un sistema di logistica negli anni 50, per cui si andavano a prendere gli operai con tutto un servizio di pulmini nelle langhe. Le langhe erano notoriamente una delle regioni, delle aree più povere dell'Italia del dopoguerra, oggi è una delle più ricche dell'Italia di oggi. E certamente Ferrero ha partecipato a questo sviluppo. E una delle origini di questo sviluppo è certamente il fatto che non sono stati sradicati i contadini dai territori, perché con questa organizzazione logistica di raccolta del personale si è potuto far coesistere il contadino e l'operaio. E quindi oggi se le langhe sono un territorio protetto dall'UNESCO, sono un patrimonio dell'UNESCO, e certamente anche, e sono terra, voglio dire, nota per i vini, per l'enogastronomia in generale, è perché comunque sia si è mantenuta la radice anche contadina, pur coniugandola con lo sviluppo industriale. E certamente in questo senso Ferrero ha partecipato. Poi, quindi, dal punto di vista ambientale, dal punto di vista così antisignano della mobilità sostenibile, e noi, voglio dire, parlare di mobilità sostenibile per noi, voglio dire, è forse un tema più laterale, però voglio dire, è uno degli antisignani della mobilità sostenibile perché, voglio dire, era il trasporto comunque in comune organizzato dalle aziende in modo da minimizzare poi l'impatto singolo degli spostamenti. certamente, poi, per noi, voglio dire, i temi centrali legati alla sostenibilità sono da cercare soprattutto nel confezionamento, se ne è parlato molto in questi ultimi anni, forse in maniera anche un pochino così, per suscitare l'attenzione di tutti, ma in maniera un po' radicale, parlo della plastica, evidente, il tema è un tema importante, poi, molti si sono spinti anche, voglio dire, con campagne anche televisive, aboliamo la plastica, forse il Covid ci ha riportato sul fatto che comunque la plastica non è un materiale da distruggere, ma forse da utilizzare meglio, e anche nel campo alimentare, vuol dire sicurezza alimentare, cioè abbiamo eliminato tantissime malattie dovute proprio al fatto che la plastica preserva gli alimenti e allunga anche la vita degli alimenti, quindi diminuisce anche lo spreco alimentare, quindi la plastica va rimessa in un contesto in cui questi anni si è fatto fatica, perché puoi parlare di argomenti complessi che coinvolgono tante cose che porta a semplificazioni, quindi a messaggi un po' demonizzanti sulla plastica. Invece l'approccio corretto, che è quello che noi spingiamo, è quello di pensare, certamente di ridurre là dove è possibile l'uso della plastica, quindi voglio dire ridurre la plastica dove è possibile, dove non andiamo a incidere sugli aspetti che ho detto prima. Soprattutto pensare al fine vita della plastica, poi lì non siamo i soli attori, perché al fine vita della plastica noi possiamo pensarla riciclabile, compostabile, possiamo pensarla riutilizzabile, possiamo fare tante cose, ma bisogna che poi a valle di tutto ci siano anche i sistemi istituzionali atti a recepire questo processo. Quindi certamente il tema, e ce lo prendiamo dal punto di vista industriale, è quello di ridurre e pensare al fine vita della plastica. Io rilancio qui il fatto che non bisogna eliminarla, bisogna semplicemente studiare il percorso e studiarne il riutilizzo finale o comunque la riciclabilità fondamentalmente. E per questo noi ci siamo impegnati entro il 2025, insieme abbiamo firmato con la Ellen MacArthur Foundation un fatto per cui noi entro il 2025 avremo tutta la nostra plastica essenzialmente riciclabile. Poi c'è l'aspetto certamente climatico nel quale noi possiamo intervenire. E lì è un fatto, abbiamo preso un impegno al 2030 di ridurre le nostre emissioni tutte le nostre attività produttive del 50%. Lì chiaramente il discorso è tutto legato all'aspetto tecnologico e all'innovazione tecnologica perché comunque quello è l'elemento fondamentale. Questo è il sourcing, l'approvvigionamento. C'è anche un'altra parte importante che ci riguarda è legata all'approvvigionamento. Quindi tutte le nostre materie prime stiamo lavorando perché siano tutte tracciabili. Tutte filiere anche piuttosto complesse perché sono anche in paesi lontani dove non sempre è facilissimo. Però comunque siamo decisamente a buon punto in tutte le filiere di materie prime che utilizziamo per la loro tracciabilità. Bene, grazie. Mentre ci avviamo alla premiazione la ringrazio di aver sollecitato un ulteriore spunto. Quell'economia circolare, quel tema del riuso che è alla base della sostenibilità. Grazie per avercelo ricordato. So che per voi sarà un grandissimo impegno ma lo è per tutto il mondo dell'industria e anche per le persone che devono ancora imparare a fare la differenziata quando buttano... Questa è una battuta. In un dibattito che ho avuto con un'associazione consumatori su questo tema e chi mi... faceva challenge sull'industria perché lavorasse in questo senso poi ho scoperto che era un maestro elementare ho avuto facile dirgli benissimo, lavoriamo insieme perché c'è anche una grossa parte che è educazione civica perché noi possiamo lavorare sulla plastica appunto come ho detto prima però non possiamo impedire che non si butti per terra o non si butti nel mare quindi voglio dire grande parte anche nella formazione civica dei ragazzi, dei bambini che oggi devo dire comunque sono molto più sensibili al tema di quanto non lo fossimo noi alla loro età. È vero. Grazie. Bene, allora. Grazie Raul. Siamo pronti per la premiazione. Sì, un applauso per la premiazione. Una parola su Ferrero devo dire orgoglio per tutti noi in tutto il mondo quindi orgoglio italiano nel mondo ambasciatore dell'Italia nel mondo Ferrero azienda straordinaria conosco penso 150 persone in Ferrero forse di più grazie di essere qui so quanto peraltro è tra virgolette difficile avere Ferrero attenzione stiamo parlando di un brand di un'azienda cioè che per essere presente per esporsi c'è tutto un processo decisionale che neanche voglio dire a Bruxelles quindi so quanto la loro presenza qui è una presenza proprio voluta ma voluta proprio anche da Giovanni cioè loro e quindi grazie cento volte sono stato tantissime volte sia ad Alba ma anche in Lussemburgo sia nella sede di prima che nella sede attuale incredibile tutto parla di sostenibilità di famiglia di vicinanza di umanità ecco se posso dire forse la parola che più mi colpisce da binare a Ferrero ma questa è una mia me ne prendo la responsabilità è una cosa mia personale proprio Ferrero se dovessi accostare una parola su tutte è proprio umanità ma si respira anche nei building nelle costruzioni negli sguardi delle persone nell'accoglienza va sicuro sarete stati azienda straordinaria non lo dico perché sono proprio affezionato Giuseppe Addezio insomma tanti amici fraterni prendi un altro microfono lì quando si entra in Ferrero c'è un corso di ferrerità ah vedi esatto che è appunto la sintesi di tutto quello che dice no è veramente meraviglioso e solo due spunti uno sul tema dell'educazione civica ieri con la sottosegretaria del ministero dell'istruzione straordinaria Barbara Floridi ha parlato proprio anche di questo abbiamo citato l'educazione civica quanto è importante e quanto il governo attuale ci sta lavorando e dall'altra parte il tema della plastica io ho imparato dal mio amico il nostro CEO for Life collega Stefano Venier già CEO for Life del gruppo Era straordinario Bologna attualmente da pochissime poche ore CEO di Snam proprio questo dicevi anche tu sulla plastica confesso che ero anch'io tra quelli diciamo legati al tabù della plastica il diavolo la plastica non è così la plastica utilissima sarà sempre più utile è riciclabile ha dei costi dei suoi processi e recentemente ho letto due tre settimane fa anche un articolo per cui la ricerca sul riciclo della plastica ha fatto degli avanzamenti straordinari per cui adesso non ricordo quanto tempo ma ci sono delle novità dal punto di vista dei tempi di riciclo della plastica straordinari che rivoluzioneranno tutto il ciclo della plastica quindi è molto probabile lo dico così perché non so né scienziato né prevedo il futuro che la plastica tornerà ancora più in voga perché sarà facilmente riciclabile e come sempre dipende sempre da noi se lo vogliamo fare lo facciamo questa è la verità quindi l'abbiamo detto anche ieri cerchiamo di andare oltre i tabù oltre nero bianco è un po' la domanda che dicevo prima quali saranno i mestieri del futuro la plastica no quali vogliamo che siano vogliamo riciclare la plastica lo facciamo se ci investiamo sopra ed è utile lo faremo grazie passiamo alla premiazione coltiviamo la pace con Save the Children grazie Raul grazie 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 tiriamo anche il libro con un anno di lavoro grazie a prestissimo buon lavoro